abbiamo un unico mare che il mare adriatico e condividiamo gli stessi problemi con i nostri partner frontalieri il progetto triton che si occupa specificatamente di erosione costiera e management costiero vede impegnati la regione Puglia e la Grecia in un progetto di cooperazione che prevede uno scambio di conoscenze e di esperienze per questo il progetto abbiamo pensato di organizzare oltre ad una summer school aperta a fruitori greci e italiani e a dei training days nella regione Puglia per realizzare un corso su questi obiettivi specifici ma anche analizzare dei casi concreti sia in Italia che in in Grecia che potessero rappresentare delle buone pratiche da da seguire e potessero essere importanti sia per la parte greca che per la parte italiana abbiamo sin dall'inizio preferito un approccio non solo come ho detto trasfrontaliero ma assolutamente multidisciplinare e infatti tutte le attività di progetto e formative sono state sono state improntate e organizzate secondo diverse materie quindi abbiamo avuto un approccio ovviamente giuridico un approccio economico un approccio ingegneristico e un approccio geologico ma ciascuna relazione del progetto è stata appunto attenta anche alle altre alle altre istanze l'integrazione del progetto è un approccio molto importante per l'utilizzo del costo questo significa, perché è un integrato costo di gestione del costo è una cooperazione di diversi know-hows questo significa che abbiamo bisogno di parlare con costali come costali ingegneri, con architetti, con urban planners, con geologi, con internazioni quindi abbiamo bisogno di interfacere con diverse altre professionalità quindi possiamo riuscire un'attività integrativa costali per la gestione del costo di gestione del costo di gestione la regione Puglia è molto bene avanzata in questo tema in effetti, insieme con Liguria e Toscana è stata una delle prime regioni in Italia per iniziare il progetto per l'utilizzo delle regioni costali per l'utilizzo del costo di gestione del costo in Italia si chiamava il piano regionale delle coste questo è anche relato ad una buona legge che era creata dalla regione Puglia che è la legge numero 17 che inizialmente era creata in 2006 e poi una nuova versione era creata nel 2015 la regione è molto bene avanzata il piano regionale delle coste è considerato un altro strumento il plan regionale per l'utilizzo delle coste è considerato un altro strumento che si chiamava il piano comunale delle coste quindi questa è una nuova strumento che deve essere creata per le comunità quindi piccole e grandi comunità devono creare un documento per regolare l'utilizzo delle coste per la regione municipale e tutte le comunità che stanno lavorando per provare questa strumento per l'utilizzo delle coste l'intervenzione ha fatto sul ruolo della regione nella gestione del costo e del planning la regione ha organizzato un plan regionale che ha la classificazione dei costi in diversi gradi di livelli di criticità per l'erosione e sensibilità per gli aspetti ambientali e quindi nuove attività sono fatte per la evaluazione di costi in order in order to reach the goal of the regional observatory on coastal management the region division is involved also in activities concerning the management of the beaches by means of guidelines on the utilization of marine debris and guidelines for the management and restoration of shores